L'addio tra Antonio Calabro e la Virtus Francaville è un dato di fatto, così il club bianco celeste è già alla ricerca del nuovo allenatore. Per la stagione 2023-2024 l'imperativo è mettersi alle spalle a una stagione in chiaro-scuro, chiusa fuori dalla zona play-off. L'obiettivo è ripartire da un profilo che conosca già bene il girone C di Serie C e possibilmente anche la Puglia. In quest'ottica rientrano due volti che nella regione sono cresciuti o hanno già allenato. Il primo è quello di Mirko Cudini, retrocesso in Serie D quest'anno con la Fidelisandria, ma autore di un buon finale di stagione con 12 punti nelle 8 partite vissute dal momento del suo ritorno in panchina dopo l'esonero di fine ottobre. Il suo calcio offensivo, testato con successo invece a Campobasso, potrebbe rappresentare la chiave di volta rispetto al 3-5-2 visto negli ultimi anni a Francavilla Fontana. L'altro identikit conduce invece a Leonardo Colucci, reduce dall'esperienza con la Juve Stabia, terminata con le dimissioni a fine gennaio. Originario di Cerignola, due anni fa aveva portato il Picerno al decimo posto e al primo turno dei play-off, profili che corrispondono alle caratteristiche definite in conferenza stampa dal presidente della Virtus, Antonio Magri. Vogliamo una persona che sia oltre ad un tecnico sia anche una persona che sia aziendalista, che condivida il nostro progetto e che faccia divertire anche il pubblico e che valorizzi i giocatori in linea con quelli che sono i nostri obiettivi. I direttori sono già a lavoro da qualche settimana e stanno avendo dei contatti, degli incontri, io personalmente ancora non ho fatto incontri, loro conoscono quali sono le esigenze, quali sono gli obiettivi, i programmi che abbiamo per il prossimo anno, quindi stanno facendo le opportune valutazioni, poi chiaramente ci incontreremo per eventualmente andare un po' più decisi su qualche nominativo. Il DG Domenico Fracchiolla e il DS Angelo Antonazzo sono quindi al lavoro, quelli di Cudini e Colucci non sono gli unici nomi al vaglio con la società che valuta anche altri profili, difficile aspettarsi scelte definitive prima dei prossimi sette giorni. Grazie a tutti.